Torniamo a Città di Bolzano, ci sono anche le giostre quest'anno per i piccoli ma anche per i grandi come potete aver visto da un video di qualche giorno fa con la sottoscritta sulle navicelle e qui siamo con il signor? Samuele E come va Samuele? Come stanno andando le serate? Un bilancio in questi primi giorni? Ma diciamo che le prime serate non benissimo, comunque è una novità anche per il Tornare a Città di Bolzano avere un'organizzazione così ampia, giostre, spettacoli perciò secondo me deve solo aumentare un attimino il passaparola proprio per il resto non ci lamentiamo, ci accontentiamo dai, siamo abbastanza ottimisti per il futuro Una bella idea comunque quella di coinvolgere in questo modo? Molto, 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 è stato veramente interessante di fatti mi hanno chiamato due mesi fa che stavano organizzando questa bellissima cosa e abbiamo valutato un attimino come e quando ero un po' scettico i primi tempi però dopo tutto sommato insomma il tempo ci sta aiutando, sono sincero, il tempo ci sta aiutando perciò va bene dai, tutto sommato va bene il video l'ho visto anche te, ho visto il tuo video, bellissimo Carina, vero? Mentre facevo Wii Bellissimo Allora magari uno di questi giorni la facciamo nelle palline Bella idea, ma quelle sono meglio No però anche te, devi stare dalla mia parte Dai, dai Grazie mille, buon lavoro Grazie a te, buon lavoro anche a voi Ciao Come abbiamo già detto, giostre, ma anche i giochi e il tiro a segno Innanzitutto, prima cosa è l'unica che mi importa Mi fai vincere qualcosa Ci possiamo provare Io vorrei tanto quello SpongeBob che vedi là Ok, quello con la faccia cattiva Quello con la faccia cattiva, cosa devo fare per averlo? In teoria bisognerebbe metterlo dentro nel buco dove c'è peluche grande Vabbè, allora parliamo magari di un prezzo Dopo magari ti offro la cena, perché non riuscirò mai Va bene Come sta andando? Facciamo un bilancio di questi giorni? Ma, a parte il brutto tempo, sta andando abbastanza bene, dai Cioè, la gente sta venendo Sì, ci stiamo rilanciando rispetto agli altri anni che era un po' calato Però siamo contenti noi E pensi che tutto questo contorno che c'è intorno al città di Bolzano abbia creato una bella festa di quartiere? Sì Più che noi, bisognerebbe chiedere al pubblico Per riuscire a capire se effettivamente sta piacendo il progetto che noi portiamo Poi, non saprei io Bisognerà anche vedere ovviamente alla fine di tutto Esatto, alla fine dei 17 giorni Il bilancio, se è positivo, se la gente è piaciuto Perché noi proponiamo, poi la gente deve piacere E magari sarai qui anche l'anno prossimo? In teoria sì Ok La teoria è, però... Sì, ci siamo Ci siamo Allora, per l'anno prossimo portami uno Spongebob ancora più grande Che devo regalarlo a un amico e non lo trovo da nessuna parte Ce l'ho in magazzino Allora, dopo parliamo della cena che ti ho Ci rivediamo dopo Va bene Ciao, grazie e buon lavoro Grazie a voi